Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV, proseguono naturalmente le fonti Asset Management TV Week e questo approfondimento è dedicato ai mercati emergenti intitolato Outsider Vincenti, i trend nascosti degli emergenti. Vado subito a presentarvi Flora Di Schnizza, Product Specialist Multi-Asset and Quantitative Investment PICTE, buon pomeriggio e ben ritrovata. Buon pomeriggio, grazie. Partiamo facendo il punto della situazione. A livello globale il momento caldo della pandemia sembra passato, almeno per il momento. Come hanno affrontato la situazione i paesi emergenti e non solo, quali paesi hanno saputo sfruttare l'occasione per crescere e quali invece hanno subito maggiormente? Grazie. Allora, è vero che siamo in una situazione molto buona rispetto a quello che abbiamo visto fino a qualche mese fa, complice le riaperture, la nostra capacità a livello globale di gestire meglio questo shock che era inatteso e inimmaginabile. Ebbene, sui paesi emergenti invece, guardando indietro appunto dalla nascita, diciamo, dell'arrivo di questo shock, che ricordiamo che è nato in effetti in un paese emergente, il più importante, la Cina. Beh, subito la Cina in realtà è probabilmente l'outsider, sia perché era il primo a affrontare questo shock, sia perché ne è venuto fuori prima e forse anche un po' meglio, ma è un caso particolare. Ricordiamo, loro hanno subito adottato una policy molto molto aggressiva, zero covid policy, che tutt'oggi la continuano a gestire allo stesso modo, quindi tolleranza proprio bassissima, chiusure continue localizzate, somministrazione del vaccino che sicuramente aiuta e testing anche molto molto veloce e ben organizzato. Quindi la Cina, diciamo, è l'unico probabilmente outsider che non solo ha gestito bene, ma ne è uscita anche abbastanza bene perché appunto ha avuto modo di anche, diciamo, avere una crescita decente l'anno scorso magari rispetto a molti altri, quindi ha avuto un tracollo, ma poi una ripresa altrettanto veloce, quindi la Cina nel 2020 non è stato proprio l'anno come abbiamo visto invece per il resto del mondo, che abbiamo visto quei cali a V e poi recuperi. Il resto degli emergenti invece, se da un lato sono stati molto bravi, molto, è stata una sorpresa positiva, diciamo, vedere paesi da Brasile a paesi asiatici che seguivano un po' il modello Cina, a paesi, diciamo, nella vicinanza dell'Unione Europea, che sono comunque molto vicini a casa nostra, sono stati tutti molto veloci a intraprendere misure fiscali o monetarie laddove c'era o non c'era sufficiente spazio. Quello che è stato quindi differente per gli emergenti rispetto ai sviluppati è che mentre il mondo è sviluppato ha avuto uno shock di crescita, diciamo, una stima che abbiamo fatto noi recentemente, un circa almeno 12% diciamo il mondo sviluppato, gli emergenti, il calo della crescita nel momento più delicato, a cavallo, quindi tra il 20 e il 21%, è stato molto meno. Questo perché mentre i sviluppati chiudevano l'economia standard, essi buttavano sull'acquisto di beni che sostituivano in un certo modo i servizi, che sono il classico, diciamo, posto dove il consumatore sviluppato va a spendere, questo ha un po' aiutato gli emergenti ad avere uno shock, diciamo, sempre uno shock che era ma un po' più leggero e quindi sono anche usciti, diciamo, un pochino meglio in termini relativi, diciamo, in questa fase di forte ralentamento. Però, tutto sommato, seppur la risposta è stata comparabile a un paese sviluppato, quindi sì, questi emergenti un po', diciamo, sono emersi, purtroppo ha lasciato anche sbilanci importanti e quindi ha creato probabilmente più dispersione a livello di paesi emergenti, quindi abbiamo il caso, basta vedere una Russia che è un paese estremamente ortodosso, nella gestione delle politiche del governo, sia fiscali che monetari, piuttosto che un Brasile che è intrecciato con la crisi politica, oggi vediamo che non c'è un recupero a livello di asse finanziario e la crescita fa fatica a venire fuori, nonostante le commodities che sono il loro punto di forza li dovrebbe aiutare. Abbiamo paesi come la Turchia che appunto hanno gestito bene la crisi, ma oggi hanno altri problemi interni e quindi tutto sommato sì, sono stati bravi a gestire e a rispondere, ma non ha cambiato granché se non ha aumentato la dispersione e la Cina rimane il classico diciamo outsider. Ecco tra poco approfondiremo anche l'argomento Cina perché è indubbiamente estremamente interessante, intanto le chiedo quali sono le spinte che rendono appunto i paesi emergenti interessanti per gli investitori e ci sono trend in particolare che evidenziano la crescita e in quali settori a questo punto? Allora i mercati emergenti sono ancora interessanti, lo sono sempre stati perché c'è questa grande disconnessione tra quello che rappresentano come fattore produttivo, come parte del diciamo PIL globale, come parte della forza di lavoro globale e la loro rappresentazione negli indici di mercato che siano azionari e obbligazionari diciamo è molto vasto questa differenza, quindi è chiaro che noi investitori da molti anni, da quando diciamo nell'ultimo decennio, ventennio che guardiamo gli emergenti con sempre molta gola, ci aspettiamo che arrivi il momento che ci sia una chiusura di questo. Quindi ci sono dei trend strutturali di lungo termine che secondo noi rimangono, quindi la demografia, paesi giovani, crescita di popolazione diciamo in media, tecnologia, ci deve essere sia il recupero del gap tecnologico nonché come oggi la Cina sta diventando a sua volta un colosso di questo ambito. I consumi perché appunto aumento popolazione, aumento qualità della vita spingerà i consumi da questi paesi, quindi diciamo e ci sono ovviamente le materie prime che oggi ricordiamo e l'abbiamo visto che sono ancora molto importanti, ne abbiamo bisogno tutti e quindi ci sono questi trend che secondo noi continuano, ma quello che è ovviamente sempre da tenere conto, questi paesi sono comunque fragili in tante dimensioni perché sono appunto in via di sviluppo, quindi con istituzioni magari non ancora totalmente formate, quindi crea di per sé una grande dispersione. Ad esempio ci sono casi in cui giusto per fare un esempio eclatante, nel 2014 avevi la Turchia che in contrattendenza oggi faceva molto bene l'equity contro la Russia che soffriva molto perché si era legato al fatto che il pezzo del petrolio stava crollando, quindi nello stesso anno tu puoi avere un ritorno di 10-15% in un asset di un paese con un meno 20% dell'altro. Quindi ci sono tanti trend interessanti, oggi sono sicuramente sono stati un po' rallentati dalla pandemia ma rimangono, questo è il tema del grande consumatore emergente di paesi come la Cina che vogliono aprirsi secondo i loro termini sotto il loro concentro di prosperità comune, ci sono i paesi che esportano le materie prime dove probabilmente torneranno sempre più investimenti visto l'aumento anche se temporaneo della domanda, ma bisogna essere sempre molto selettivi e probabilmente a nostro avviso e quello che abbiamo fatto e quello che consigliamo è gestirle ormai in ottica multi asset, quindi perché il rischio idessicratico nel mondo emergente è molto più rilevante degli altri macro rischi che in un multi asset globale uno guarda, quindi bisogna focalizzarsi su scelta temi, paesi o addirittura anche asset class. Quindi oggi noi che si pensa che l'anno prossimo questa diciamo crescita che è stata un po' più lenta quest'anno delle emergenze perché dicevamo hanno perso di meno, hanno recuperato quindi anche di meno, probabilmente la spinta dell'andamento positivo dei mercati sviluppati dobbiamo ancora vederla l'anno prossimo e quindi possiamo puntare in questi settori che dicevamo che sono un po' i trend di lungo termine di questa asset class. Dunque vogliamo toccare il punto anche a livello di banche centrali e sicuramente il loro ruolo hanno sostenuto i mercati fortemente insieme naturalmente all'economia tramite queste politiche ultra accomodanti, almeno le principali banche centrali. Dunque quanto questa azione può influire sulle dinamiche e la crescita dei paesi emergenti? Ha avuto un impatto qualsiasi? Allora diciamo che storicamente banche centrali globali e mercati emergenti hanno sempre avuto tramite vari canali una connessione importante. Ricordiamo che gli emergenti sono diciamo sono sia esportatori, hanno bisogno di funding diciamo di finanziarsi in valute non l'oro, però spesso il dollaro e sono comunque asset class con un rischio più elevato, quindi quando le banche centrali sviluppate offrono liquidità, quindi allievano diciamo le condizioni finanziarie del mercato in generale, sicuramente rendono più interessante il premio a rischio di questi paesi non fosse perché non solo per mancanza di alternativa, però diciamo agevola anche i flussi verso questi paesi perché ricordiamo sono emergenti appunto perché sono molto sensibili ai flussi, quindi la liquidità globale è un fattore molto importante su questa dimensione, è importante quando la banca centrale americana che è in fase di espansione monetaria vuol dire che mantiene tassi ben ancorati, questo agevola attività come debito o in valuta locale o anche valuta forte. Quest'anno però abbiamo visto che non è bastata questa liquidità globale, questa crescita globale a dare questa spinta agli emergenti perché a nostro avviso appunto le politiche che gli emergenti hanno intrapreso a loro volta a livello domestico che spesso li hanno reso più fragili perché hanno dovuto ampliare i deficit fiscali, hanno dovuto fare molto easy monetario a pari passo con le banche centrali sviluppate, ecco questo diciamo non piace molto agli investitori, quindi abbiamo visto che quest'anno i flussi che di solito sono quelli che sostengono gli emergenti, non sono arrivati per così tanti. E qua quindi in realtà la liquidità globale è sempre importante, oggi siamo nella fase che sappiamo che non ci sarà più, che è in fase di calo, tra rimozione della liquidità delle banche principali ha un rialzo tassi, probabilmente c'è più tempo e quindi in questa finestra che pensiamo che gli emergenti possano un po' recuperare quella grinta persa e inoltre c'è anche un mix che potrebbe un po' attenuare questa spinta di drenaggio dalle banche centrali sviluppate che è allo stesso tempo la Cina che a fine dell'anno scorso è già diventata restrittiva la politica monetaria, mentre adesso si sta avvicinando già una fase di potenziale espansione e questo potrebbe in qualche modo controbilanciare diciamo queste due forze, chiaro che un quantitativising o comunque un iniezione di liquidità o di espansione della Cina non è in ugual misura al mix delle banche sviluppate, però sicuramente da un fattore in controvidenza. Quindi il tema è sì è un rischio, lo è sempre stato e lo sarà, ma oggi non è l'unico rischio perché oggi gli emergenti li troviamo probabilmente un po' più preparati, quindi se facciamo un paragone con il 2008, il suo dato è il 2013, quando c'è stato il grande scossone, agli emergenti ecco oggi perché hanno dovuto appunto diventare più restrittive quest'anno le politiche per via di quello che hanno fatto durante il Covid. Quest'anno sono stati penalizzati, ma dall'altro canto si trovano più preparati grazie proprio a questa anticipazione restrittiva che hanno dovuto fare a questo drenaggio di liquidità che è fisiologico nel mondo sviluppato. Senta, le ha toccato un argomento molto interessante, ovvero proprio la Cina, visto i tassi di crescita che abbiamo assistito negli ultimi anni, voi come considerate la Cina? Cioè tuttora un mercato emergente o non si può chiamare più un mercato emergente? Ecco allora, diciamo che per noi, come dicevamo, uno dei fattori più netti a distinguere un paese emergente rispetto a uno più, diciamo, emerso e sviluppato è tendenzialmente la dinamica di come le sue attività finanziarie si muovono dovute a che tipo di rischio di fattori e sono, diciamo, classico delle immagini sono i flussi, quindi gli investitori arrivano perché si sembrano interessanti, il debito indonesiano, l'Indonesia performa molto molto bene, sì sicuramente legata a fattori domestici ma contano molto meno. La Cina invece oggi è molto importante e c'è stata anche non solo una, diciamo, una certa riparazione rispetto ai flussi, quindi la Cina secondo noi oggi si comporta come un paese sviluppato prima dell'epoca del quantitative easing, quindi quando l'azionario e l'obbligazionario dello stesso paese facevano da controbilanciera a seconda delle fasi del ciclo, quindi in Cina quest'anno noi abbiamo visto un mercato azionario che è andato malissimo, diciamo, per quello che uno si può aspettare da un paese emergente, le performance sono molto deludenti, c'è stata la stretta regolamentare, quindi la Cina, ricordiamoci, oggi ci ha detto chiaramente che passa da crescita a tutti i costi a una crescita conosciuta come common prosperity dove deve essere più uguale, più accessibile a tutti, quindi più eguaglianza economica, sociale, ambientale, culturale. Questo significa che abbiamo visto appunto toccare dei settori che per il mondo azionario, come è successo in altri paesi sviluppati molti anni fa quando cambiano le, diciamo, normative interne, è stato penalizzato. D'altro canto il settore obbligazionario invece ha resistito molto bene, ha reggito molto bene perché la banca centrale è molto credibile, è molto ortodossa, infatti i bond cinesi in voluto locale hanno fatto molto bene quest'anno. Infatti noi nel nostro prodotto multi asset emergente abbiamo fatto proprio questo, abbiamo considerato la Cina sui suoi meriti, quindi l'azionario è stato molto molto ridotto, l'azionario cinese che pur rappresenta uno dei, diciamo, più grossi componenti dell'emerging equity nel suo complesso e abbiamo privilegiato invece la valuta e i bondi in voluto locale perché appunto ancorati a un'istituzione credibile e che ha lavorato bene. Quindi per noi la Cina è diventata totalmente un paese sviluppato, non proprio magari perché appunto questi cambiamenti normativi un po' repentini, non so, diciamo, proprio assimilabili a un mondo sviluppato, però ci siamo quasi perché la banca centrale ha una credibilità importante, i flussi sono importanti ma non sono l'unico fattore e il nazionario e l'obbligazionario si compensano e seguono bene il ciclo in cui si trova il paese. Ultimissima domanda, anzi penultima domanda che riguarda però invece il caso Evergrande che ha fatto parte delle cronache economico-finanziarie mondiali, naturalmente la società più importante a livello immobiliare naturalmente in Cina, poi però non era l'unico caso, abbiamo visto anche Fantasia e altre aziende che hanno avuto difficoltà a effettuare i pagamenti in bond, in dollari naturalmente, dunque volevo capire, vi aspettavate con tutto ciò che è accaduto al mercato immobiliare, potrebbero esserci delle ripercussioni anche sull'equity o meno? Allora, diciamo, parte dall'anno scorso questa vicenda abbastanza complessa che poi si è tradotta in un caso, diciamo, in un collasso di uno dei colossi dell'immobiliare a livello di prezzi di obbligazioni equiti. Quindi il governo ha annunciato una politica chiamata, diciamo, le tre linee rosse dove le società del mondo rilestate immobiliare devono in sostanza ridurre il debito, la leva e, diciamo, essere in una gestione di bilancio più consono agli obiettivi dell'everaging del governo. Evergrande, come anche altre aziende, già era, diciamo, in territorio a luci, diciamo, a semaforo rosso, già verso l'inizio di quest'anno, si sono aggiunte una serie di dicerie di mercato, alcune, diciamo, alcune vere, alcune meno verificate, però di fatto alcuni pagamenti non sono stati fatti, si sapevano i fattori di leva, il governo continuava con la morsa regolamentare, quindi da maggio a oggi abbiamo assistito a questo collasso a livello dei titoli obbligazionari per arrivare, diciamo, a un punto di culmine a settembre dove su tre pagamenti di cedola, diciamo, di interesse che doveva fare la società non li ha fatti e quindi è entrato ufficialmente in questo periodo di 30 giorni dove se non adempia il suo obbligo passa automaticamente in default. Questo non è accaduto, almeno per il primo di questi, se fa pagare la settimana scorsa. Esatto. In parallelo la banca centrale cinese ha dato qualche segnale dove ha indicato che vorrebbe che questa situazione avesse una risoluzione ordinata, quindi sicuramente per grande è il caso di scuola. Al governo non è piaciuto chiaramente la sua, diciamo, varietà di business che andavano non solo sull'immobiliare ma su tanti altri temi, diciamo questo in linea con le loro nuove prerogative di crescita più equa, di meno monopoli, diciamo, di distribuzione della ricchezza, quindi è chiaro che per grande è un caso che verrà sacrificato, lo stiamo vedendo, però non dovrebbe, diciamo, finire in una storia brutta. Non abbiamo mai ritenuto che fosse un caso, diciamo, Lehman o un caso che trascina troppo perché comunque è vero che il debito della società è enorme, 300 miliardi e si sa che c'è tanta interazione nelle banche locali o nelle banche, diciamo, del paese, ci sia un po' di disposizione di investitori esterni, ma non era così enorme l'esposizione, diciamo, a singola banca da causare questo effetto contagio. Sì, quello che è successo, che forse preoccupa di più, è il caso fantasia, dove si è introdotta una nuova variabile, quindi non più posso o non posso pagare, ma voglio pagare e questo nel mondo credito asiatico è un punto delicato perché la credibilità era molto importante, introdurre questa variabile dove magari decidi di non pagare aumenta chiaramente il rischio, quindi c'è stato un po' di aggiustamento di questo settore. È vero che poi il settore immobiliare per la Cina a livello di PIL pesa un 20-25% storicamente, quindi è molto importante, quindi sì, lo vediamo già nel rallentamento dei dati dell'economia cinese, quindi riteniamo che il peggio sia apprezzato, la parte peggiore l'abbiamo vista e il mercato si è aggiustato abbastanza a questo nuovo scenario dove la Cina crescerà di meno, ma non riteniamo che vada una fase che deraglia non solo la crescita del paese, ma anche quella globale. Ecco, questo era un punto importante, dunque nessun effetto Lehman Brothers, come abbiamo visto un bel po' di anni fa. Sembra così per ora. Ok, dunque chiudiamo questa tavola rotonda che si ispira ai valori e alle strategie dello sport, appunto con le parole di Maurizio Cacciatori, stella del pallavolo italiano e non solo naturalmente intervenuta ai microfoni di Le Fonti, ci ha parlato di gruppo e strategia, sentiamola. Ci vuole un'ottima organizzazione del team, un'ottima preparazione. Io dico sempre che le coppe si vincono da lunedì mattina e si conquistano meritatamente la domenica, ma perché questo è il concetto, no? Alla base di tutto, se vuoi avere una mentalità così rapida, così fluida, così anche flessibile, devi avere comunque la base, una buona preparazione, perché noi per anni siamo state davvero delle grandi campionesse in ambito sportivo, abbiamo conquistato davvero titoli straordinari, ma l'abbiamo fatto con grande preparazione alla base e poi lavorando su di noi in funzione proprio del team. E tutto questo ci ha dato la possibilità di capire che la velocità, la rapidità, anche di sguardi, di cambio strategia nell'immediato, perché quando giochi contro un avversario nel volley, ve lo posso dire, prepari tutta una strategia, ma all'ultimo secondo la devi cambiare, quindi anche una predisposizione al cambiamento, no? E quindi senza fermarsi, senza stare ad attendere quello che farà l'avversario, ma pronti a ricostruire, a resettare in maniera rapida e veloce. Questo cosa implica? Una buona intesa del team, nel senso il team deve essere un team, non può essere un gruppo, ognuno che fa il suo percorsino, no, deve essere una squadra che ha l'obiettivo ben chiaro e ha allenato questa skill. E dunque, la Cacciatori sostiene che una delle doti fondamentali di un gruppo vincente sia la rapidità del cambio di strategia e la predisposizione al cambiamento. Vale anche per chi opera nell'asset management? Beh, diciamo che credo sia proprio una delle cose più importanti. Probabilmente si lega anche al mio lavoro, al nostro team, che essendo molti asset, che nasciamo appunto dopo il concetto di flessibilità, quindi portiamo a un gradino più avanti la flessibilità, se non riesci ad adattarti senza troppi vincoli dal passato, accettare che un asset class che ieri faceva molto bene e si incoportava in un modo, ma oggi è cambiato, se non lo accetti non riesce a seguire il mercato, perché il mercato si evolve velocemente, cresce, cambia e noi diciamo crediamo che la cosa più importante è accettare questi cambiamenti e cercare nel miglior modo possibile di cavalcarli o se non altro, diciamo, di andarci almeno di pari passo. Quindi sì, assolutamente molto centrato. Ottimo, io la ringrazio, grazie mille per essere stata con noi, a Flora Dishnitz, Product Specialist Multiasseted Quantitative Investment, PICTE, grazie ancora e alla prossima occasione. Grazie a tutti, grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, brevissima pausa obbligitaria, rimanete con noi, segue le fonti internazionale.